Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo con il secondo episodio di New Star Soccer. Iniziamo subito a giocare. Carichiamo la carriera. Nel precedente episodio avevamo iniziato bene il campionato vincendo e adesso ci apprestiamo alla sfida di Coppa. Allora dobbiamo incontrare il Lecce in trasferta. Partita non facile. Giochiamo. E passiamo subito in vantaggio. 1-0. Abbiamo un'occasione. Passiamo al nostro compagno. Passaggio delizioso. Il Lecce pareggia. Altra occasione nostra. Passiamo in modo ravvicinato al nostro compagno. Abbiamo due possibilità anche in questo caso. Passiamo. Facciamo un assist fantastico. E la squadra passa in vantaggio. Abbiamo tante azioni questa partita. Più che altro facciamo passaggio. Non abbiamo ancora avuto un'occasione davanti al portiere. Ma facciamo il secondo assist. 3-1. Finisce il primo tempo. Inizia il secondo tempo. passaggio perfetto. Altro passaggio perfetto. E parata del portiere. Attenzione! Il Lecce non molla. Accorcia. Abbiamo un passaggio facile, centrale, filtrante. In questo momento abbiamo una possibile occasione di tentare il tiro. Parata. Ci avviciniamo agli ultimi minuti di questa partita. Ed è finita. Vinciamo 3-2. tantissime in coppa. Passiamo il turno. La maceratese è ancora in coppa. Nostra prestazione personale. 9 occasioni. 0 gol. 2 assist. Passaggi 8. Voto partita 10. E E anche su passaggi precisi e buoni piedi. Anche nelle situazioni più concitate. Un gioco molto efficiente. Fabrizio Rossi ha impostato il ritmo del centrocampo della sua squadra per questa stagione. E beh, in effetti è stata veramente una bellissima partita. E una prestazione da 10. adesso andiamo avanti alcuni compagni di squadra ti hanno in va di andare? Beh, direi al momento di non accettare. Sappiamo che scenderà un po' il livello del rapporto con la sua squadra ma non ci fa spendere molte energie. adesso andiamo a fare il campionato seconda partita per questa partita inizi in panchina perché la tua energia è bassa l'allenatore non è contento partiamo dalla panchina purtroppo ma entriamo sicuramente molto carichi quando l'allenatore ci darà la possibilità finisce il primo tempo 0-0 tra maceratese e lucchese e la lucchese segna passiamo al nostro compagno abbiamo un'altra occasione attenzione assist 1-1 altra occasione non è facile questo il gioco qui facciamo un passaggio corto ultimo occasione perfetto il mio compagno che segna un altro assist 2-1 e due assist importantissimi altra vittoria importante passaggi voto partita 10 1-1 siamo terzi in classifica come potete vedere se l'uomo partita ha ancora bellissime notizie la performance di Fabrizio Rossig per il club maceratese contro il club vero per se l'uomo sprizza qualità da tutti i pori e possiede una forma fisica che la maggior parte dei calciatori può segnare che parolone incredibile vediamo qual è la prossima partita prossima partita intanto ci dice che una donna ti ferma vicino a un fiume e ti chiede aiutare ti dice di essere una tua fan migliorerà il tuo rapporto con i tifosi ma ti costerà 20 energia beh dai aiutiamola qual è la prossima partita che penso che faremo però nel prossimo episodio prossimo video per questa partita inizia in panchina perché la tonagia è bassa e la torre non è contento e contro la reggiana e contro la reggiana per aiutare la squadra per aiutare la squadra intanto finisce per ovviamente adesso dobbiamo dribblare e cercare ottimo passiamo al compagno assist perfetto 1 a 1 possiamo tentare questo tiro e niente è sbagliato vediamo che per adesso siamo più da assist man i passaggi attenzione segniamo 2 a 1 e manca poco alla fine di questa partita altro dribbling perfetto è qui difficile attenzione dovrò fare un bel passaggio e gli avversari mi anticipano il passaggio attenzione all'ultima occasione troppo lunga peccato diciamo questa è la cosa importante altra vittoria che ci proietta nelle parti alte della classifica il nostro voto è 6 abbiamo un po' diminuito comunque siamo sempre terzi direi che per oggi è tutto un proseguio di questa serie molto proficuo e molto fortunato perché siamo riusciti a vincere tutte le tre parti che abbiamo giocato oggi adesso non resta che continuare su questa strada comunque se vi è piaciuto il video mettete un like mi raccomando e alla prossima grazie a tutti